Buongiorno a tutti, oggi preparo una granita al limone per quest'estate calda. Mi occorrono 5 limoni biologici, 300 grammi di zucchero, un litro d'acqua, inizio con grattugiare i limoni. Naturalmente prima li ho lavati. Musica 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 Una volta grattugiata la buccia di 5 limoni, la vado a mettere nella pentola. Metto lo zucchero e metto l'olio. Musica La vado a mettere a bollire. Attendiamo che bolle e poi la lasciamo cuocere per 10 minuti. Musica Ora che sta bollendo, la facciamo cuocere. 10 minuti e poi la lasciamo raffreddare. Una volta raffreddato il succo, lo vado a filtrare in un contenitore capiente un litro. Ora vado a spremere i limoni che prima ho grattugiato. Musica 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 Una volta ricavato il succo lo aggiungo. Una volta pronta la vado a mettere nel congelatore e ogni ora la vado a mescolare. Dopo un'ora di congelatore la vado a mescolare. Una volta mescolata la rimetto nel congelatore. La mescolo per la terza volta. La rimescolo un'altra volta dopo un'ora. Poi è pronta. Una volta pronta la granita la andiamo a gustare. Eccola pronta da gustare. Grazie della visione alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace. Grazie a tutti.